Per cui queste fibrillazioni sono importanti perché riguardano l'esistenza del Governo, ma diventano ancora più importanti se il Governo, pur esistendo, non riuscisse a lavorare. Questo è il punto fondamentale. Il Governo ora riesce a lavorare. Qualora si verificasse una situazione in cui il Governo non riesce a lavorare, lo dico anche per tanti altri che dicono che a settembre faranno sfracelli, che minacciano cose terribili, eccetera, un Governo con ultimatum non lavora. A quel punto il Governo perde il suo senso di esistere.